La sua prima dichiarazione da neosindaco di Civitanova? È stata una vittoria, da quello che ho visto, schiacciante in quasi tutte le sezioni di Civitanova, quindi c'è stato un voto unanime da parte di tutta la città, un messaggio chiaro che è stato dato a questa amministrazione, che non è stata gradita per come ha operato, per come ha amministrato e sinceramente anche per come si è comportata in maniera scorretta in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Non è una mia vittoria, è una vittoria di tutta la coalizione che mi ha sostenuto, ma soprattutto della città intera che ha voluto con questa scelta cambiare passo. La prima cosa che farai da sindaco? Diciamo che innanzitutto i festeggiamenti finiranno stasera perché già domani si sarà al lavoro, ci ritrova, è una città che ha molte problematiche e quindi bisognerà mettere mano su tante cose, la sicurezza è senzata una priorità. A chi la dedichi questa vittoria? Ma questa vittoria la dedico a tutti i cittanovesi, a tutti gli amici che mi hanno sostenuto, e alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli, che in questi ultimi mesi sono stati trascurati, ma non mi hanno mai fatto pesare il fatto di essere stato assente a casa. Grazie, un bocca al lupo, signor. Grazie.